Ben tornati a tutti. Oggi è martedì, 6 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo cancro. Spendaccioni, ma solo per amore. Quanto spendete oggi, strabiliante la disinvoltura con cui sfoderate la carta di credito, sarà effetto di Marte esagerato in seconda casa, raggiunto oggi stesso da Venere, che vi ha piantati in asso dandovi il bye bye. Probabilmente ha ragione il partner, impersonato dalla luna scorbutica all'opposizione, va così che tentate di fare ammenda con un dono di classe ricco di significati simbolici, parlerebbe per voi come farebbe un amico disposto a farvi da spalla. Proprio tra gli amici stasera cercate spazio e consolazione, parlare di viaggi vi allarga già il cuore e se qualcosa in coppia si inceppa la miglior medicina è partire, a distanza tutto assume toni più chiari, ciò che si rischia di perdere è quello che si apprezza di più. Un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa, un nuovo modo di stare insieme e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single che avranno modo di approfondire le conoscenze. La parola d'ordine è compromesso. Cercate di non accendere gli animi e trovate un punto d'accordo con il partner. Se lascerai da parte i tuoi crucci, potrai trascorrere un giorno veramente sereno ed in piacevole compagnia. Nel tempo libero, potrai permetterti una vacanza. Marte ispira il cambiamento, l'ordine di priorità nella vostra vita potrebbe essere stravolto radicalmente. Partite dalle cose più semplici. Nel far valere le vostre ragioni usate sempre prudenza e tatto, se ritenete di essere nel giusto, protestate pure, ma sempre in modo gentile ed educato. Spesso l'impulsività gioca brutti scherzi. Nelle cose di cuore oggi avrete il favore di venere di un Giove che vi farà sembrare oltremodo luminosi e raggianti. Approfittatene di questo momento alquanto favorevole soprattutto se siete nati di Marteni. Tutti gli altri assaporeranno momenti piacevoli. Se state subendo una separazione o state pensando di farlo, la cosa migliore è rivolgersi a un buon avvocato, scegliendolo tra quelli che vi ispirano un'evidente fiducia. Fatevi promotori di una riappacificazione importante tra due conoscenti, al momento opportuno vi saranno riconoscenti e potrete contare sul loro aiuto. Decisioni da prendere in amore con una certa urgenza, se la ragione ti dice una cosa e il cuore un'altra, cerca di capire non tanto chi ha ragione sul passato ma chi potrebbe averne in futuro. Un amico potrebbe dirvi qualcosa che vi recherà dispiacere e vi metterà in tensione, purtroppo ne risentirà la giornata e l'onore che per questo non sarà tra i migliori. Idee brillanti e fascino saranno le vostre carte vincenti. Bella ripresa in campo sentimentale. Oggi nella vostra mente, si rincorreranno rapidi i pensieri e potrete finalmente arrivare ad un punto. Se riusciste ad organizzarvi per bene potreste sperare in questa giornata di portarvi avanti con il lavoro, gli amici, la famiglia. Esce nel pomeriggio dopo un mese esatto venere dal vostro segno, ma continua ad essere positiva per voi, poiché entra nel segno amico, buon vicino del leone. Fino al 9 ottobre si troverà in questo secondo segno di fuoco. Nel segno della piena estate e dello sfolgorante signoria del sole. E, comunque, sotto gli influssi di una venere tanto benefica e solare, vi godete l'avventura della giornata a tratti dai fermenti di novità che vedrete manifestarsi. Contate pure su un portentoso personal trainer, Giove, che, dal toro, vi addestra in maniera perfetta per migliorare molti aspetti della vostra vita. Biebie a venere, la dell'amore vi salute e fino all'anno prossimo non avrete più il piacere di rivederla. Varca ai confini del leone, il vostro vicino di casa, dove si getta tra le braccia dell'amante Marte, già in lotta con il rivale Plutone. Non intristitevi, vero che la luna in Capricorno, timida e rigorosa vi dà contro, ma con due intermediari di tutto rispetto, come il grande Giove in se stile e Saturno acquatico intrigono, avrete le vostre protezioni celesti e altro da pensare e soprattutto da fare. Amore ed Eros. Al giro delle solite amicizie, già piuttosto numerose, se ne aggiunge qualcuna di nuova conosciuta in vacanza e già cominciate a pensare a un nuovo incontro che si terrà a casa vostra, in terrazzo o in giardino, perché a voi la parte dell'anfitrione è sempre piaciuta. Un filo di possessività in amore, ma se va bene per il partner, che ne esce ringalluzzito e ancora più appassionato, andrà bene anche per voi. La luna vi tiene il broncio, ma è venere, in angolo felicissimo per voi Cancro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 25 di giugno. Continuate a dare largo spazio ai sentimenti. Provvedete a offrire il vostro ascolto alla persona amata e ne verrete ricambiati più di quanto voi immaginiate. Successi strepitosi per single specie se sono ragazzi in fase di fioritura ormonica e se sono nati in luglio. Lavoro e denaro? Quante cose da fare, oltre alle solite incombenze d'ufficio, le foto del viaggio da archiviare, lavatrici e stiro a go-go, la spesona da rifare e magari anche qualche acquisto fro-fro come premio di consolazione. E poi il ripasso insieme ai vostri ragazzi alle soglie degli esami di maturità, una bella trovata per acculturarvi e spolverare tutto quanto a suo tempo sapevate e ora avete dimenticato. Il vostro estro è il vero gioiello da cui non separarsi mai. Nella vostra giornata lavorativa lo mettete a disposizione vostra e altrui, ottenendone conferme costanti in modo più incisivo se appartenete alla seconda decade. Nettuno è al vostro fianco. Benessere. Stamani la colazione la divorate con gusto, troppo in fretta, però, col rischio che vi rimanga sullo stomaco. Fondamentale per voi masticare con calma e consumare il pasto senza fretta, i ritmi caotici non fanno per voi, che ogni cosa la meditate e la centellinate con calma. Un'occhiata allo specchio vi dirà che siete quasi perfetti, per avere fortuna indossate qualcosa di bianco. Per lei, pretenziose, bello essere eleganti e appariscenti, ma se dovete sacrificarvi e finire in rosso per acquistare indumenti dei quali non avete neppure davvero bisogno, c'è da pensare che stiate deragliando, troppe amiche scioccherele vi stanno facendo perdere la direzione. Per lui, nella giornata dedicata all'ambiente vi date un grande affare contro le plastiche e tutti gli altri fattori inquinanti. Possibile che la gente sia così stupida e maleducata da non capire che il pattume lo sta disseminando a casa propria? Sì, perché la terra è la casa di tutti. Colore delle emozioni, giallo ocra. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.